Buongiorno da Stefania Bonomi e bentornati all'appuntamento con l'informazione di questo giovedì 15 giugno. Andiamo subito a scoprire qual è il santo di oggi. Oggi si festeggia San Vito Martire in Lucania. L'unico dato storico è il martirio in Lucania ma il culto di San Vito è attestato fin dal medioevo. Forse siciliano è noto per dei prodigi di guarigione che opera per la sua fede. È invocato contro epilessia, ossia la malattia dai movimenti incontrollabili, detta proprio Vallo di San Vito. Andiamo a vedere le previsioni del tempo. Oggi giornata con tempo veramente pessimo, abbiamo avuto degli acquazzoni stanotte, anzi dei nubi fragi violenti ed ancora la situazione è di residua instabilità su medio-basse marche che tenderà dal tardo mattino a concentrarsi sull'entroterra meridionale. Nei prossimi giorni ritorna il sole, da venerdì abbiamo di nuovo delle buone temperature dalle minime di 19 alle massime di 26 fino ad arrivare domenica con una giornata splendida che da minime 19 massime 30. Il sole è sorto alle 5.24 e tramonterà alle 20.49. E siamo arrivati alla nostra rassegna stampa. Allora vediamo subito che cosa ci propongono oggi entrambi i nostri giornali Corriere Adriatico e resto del Carlino. Allora Corriere Adriatico, titolo di testa, bretella, sterzata di autostrade, cantiere di muraglia in stand by, la società cambia l'impresa in corsa per rispettare i tempi, il completamento affidato ad Amplia, l'ex pavimental. I lavori ripartiranno entro fine mese. Abbiamo poi la fotonotizia che riguarda Motoponte alla Ruspa, la foce del fiume, via il tappo che blocca il foglio. Poi abbiamo le brevi di cronaca Pesaro, comune gestori per la Movida patto sui decibel, sempre a Pesaro arrestato agricoltore, coltivava marijuana in un suo terreno e poi ci spostiamo a Fano preso con la coca, condannato e subito in libertà e di taglio basso abbiamo il buttafuori lacrime ma resterà in carcere. Il giovane accusato di omicidio volontario, illegali. I pugni non sono stati 50 ma 5 o 6. Ma entriamo nel vivo delle nostre notizie. Andiamo subito alla sterzata di autostrade alla pagina 8 del Corriere Adriatico. Ed ecco che ritroviamo qui l'articolo. In primo piano la bretella in stand by sferzata di autostrade che cambia l'impresa, il completamento di muraglia affidato ad Amplia, l'ex pavimental tecnici al campo di base. Il cantiere ripartirà entro la fine del mese. Abbiamo le opere compensate a 14, la bretella muraglia dopo la riapertura di strada a Carlora inizio marzo il cantiere ha subito subito un impasse. La consegna dei lavori è prevista nella seconda parte del 2023. Poi abbiamo la bretella gamba pica inizio lavori 2023 che sono in corso le opere per la rotatoria salva grossa dai 6 ai 9 mesi per i lavori per realizzarle. Poi ancora la circonvalazione Santa Veneranda inizio lavori 2023 per il secondo stralcio. Si attende all'avvio del secondo casello di Santa Veneranda. Il Comune segue i passaggi per assicurarsi che il progetto resti nei tempi stabiliti. Torniamo in prima pagina e andiamo subito a vedere il butta fuori il lacrime ma resterà in carcere. Pagina 10 a pagina 10 troviamo dalla pagina 10 ma pagina 17 scusate. Allora eccolo qua e siamo a Fano pagina di Fano. Il lacrime si difende dalle accuse ma il butta fuori rimane in carcere. È accusato di omicidio volontario oggi all'autopsia sul corpo del vigile del fuoco. L'assassino resterà in una cella del carcere di Rimini. L'ha stabilito il GIP, l'autorità giudiziaria del Tribunale Romagnolo ieri al termine dell'interrogatorio di garanzia che riguardava il giovane butta fuori fanese di 28 anni accusato di aver ucciso con una raffica di pugni Giuseppe Tucci 34enne vigile del fuoco. Per lui l'accusa è di omicidio volontario nel corso dell'interrogatorio di garanzia si sarebbe difeso sostenendo che Tucci aveva assunto un atteggiamento molesto e di essere stato da lui minacciato e colpito in un crescendo di comportamenti fuori controllo. Tanto che il vigile del fuoco è stato allontanato dal locale due volte. Siamo a Fano e restiamo nelle pagine della nostra città preso con la cocaina condannato ma è subito libero quasi mezzo etto di droga già suddiviso in dosi. È stato arrestato dalla polizia condannato a 18 mesi di reclusione è subito tornato in libertà. Il 22enne albanese che una volante del commissariato fanese ha arrestato per droga nella prima serata di martedì scorso. Il giovane è stato fermato dagli agenti per un controllo all'altezza dell'aeroporto e all'interno della sua automobile sono stati trovati 40 grammi di cocaina che erano già stati suddivisi in dosi. È stato quindi disposto all'arresto per la detenzione di sostanze stupefacenti. Nel primo pomeriggio di ieri nel tribunale a Pesaro il provvedimento è stato convalidato e il 22enne è tornato in libertà in quanto trattandosi di incensurato. Restiamo sulle pagine di Fano sempre del Corriere Adriatico e in prima pagina vediamo restail in del Bastione Sangallo. Nuova vita per le mura storiche serie brunori via le barriere architettoniche capienza da 150 a 350 posti. Il progetto infatti prevede la realizzazione di una struttura che ricorda le antiche torri d'assedio nei pressi delle mura che uniscono il tratto tra via Mura Sangalli e Viale 12 Settembre all'interno della quale si trova una scala che consente al pubblico di accedere a una passerella la quale attraversando in altezza la Corte Bassa consente di arrivare alla piazzuola dove erano sistemate le cannoniere. Verrà raffolzato inoltre l'impianto antincendio. Ridistribuiti gli spazi all'interno della casa matta restaurate le murature e realizzati i nuovi servizi igienici per un importo di 570 mila euro di cui l'80% dovrebbe essere attinto da un bando regionale di prossima pubblicazione. A rischio il cimitero per intervenire però ci vorrebbero hanno bisogno di tanti soldi intervenire costi stellari mezzo milione sarebbe necessario solo per agire nella parte sud ovest dell'area. Precario lo stato di salute generale dei cimiteri cittadini e dove più dove meno inderobabile occorre correre ai ripari per salvaguardare la tenuta prima ancora che il decoro. Ci vorrebbero comunque mezzo milione di euro soltanto per mettere mano ad una piccola sezione dell'area che accoglie le spoglie di tanti fanesi. Passiamo alle pagine di Valmetauro Ampliamento della Federiciana Seri non toccherà i fondi Terna. Il sindaco concorda con i residenti le opere compensative della Adriatic Link. Con il ramarico dei residenti di Carrara Terna ieri sera ha disertato l'incontro che era stato organizzato per definire una volta per tutte insieme all'amministrazione comunale l'impiego di quelle risorse messe a disposizione per ripagare la comunità maggiormente danneggiate dall'impatto delle opere programmate. Verranno programmate azioni di monitoraggio dell'impatto acustico in coordinamento con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. La riunione è comunque servita per concordare con il sindaco le opere compensative tra cui la realizzazione dei sottoservizi nelle zone mancanti di un marciapiede sulla Flaminia, delle asfaltature in tutte le strade interessate dai lavori, la ristrutturazione della vecchia scuola elementare e queste sono l'ampliamento della Federiciana. E poi ancora colpo di sonno con l'auto contro un palo. Alla guida undiciannovenne altro scontro con un bous illesa però la conducente. Spostiamoci in Val Cesano dove compostaggio domestico, l'organico diventa una risorsa, cresce il numero di famiglie che lo pratica. Lunedì giornata proprio dedicata alla sensibilizzazione, fa bene all'ambiente e al portafoglio. È il compostaggio domestico che nel territorio di Mondavia è praticato da sempre più famiglie. In cinque anni hanno aderito ben 38 nuclei familiari. Si è passati dai 313 del 2018 ai 351 del 2022. E la pergolese festeggia i suoi 100 anni di storia. Domani ci sarà la celebrazione del traguardo a pochi giorni dalla vittoria del campionato. Ci spostiamo a Senigallia in titolo di testa ospedale palazzina per l'urgente il progetto di fattibilità in regione. Il cantiere va chiuso entro il 2026. I medici, angeletti e piazzai incalzano. Il pronto soccorso è al collasso. Consegnato in regione il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della palazzina per le urgenze nell'ospedale Principe di Piemonte. Un progetto che consente di avere le indicazioni relative alla struttura che dovrà sorgere nell'area della pinettina presente tra l'edificio che ospita la camera mortuaria, la palazzina della psichiatria e il vecchio monoblocco. Sempre a Senigallia, altro titolo di testa, il colosso delle verdure surgelate rilancia Orto Verde e fa investimenti per 21 milioni. L'obiettivo è quello di realizzare una moderna cella frigorifera accanto allo stabilimento di Cesano. La Orto Verde, quarta azienda in Italia nella produzione di verdure surgelate, annuncia un investimento di 21 milioni di euro, di cui il 40% di fondi del PNRR per realizzare una nuova moderna cella frigorifero. Sorgerà accanto allo stabilimento di Cesano. Aveva droga dentro casa, denunciato un diciannovenne. I carabiglieri gli hanno trovato l'ascis e 1300 euro, somma ritenuta proveniente dallo spaccio. Chiude per l'addio a Berlusconi. è successo a Senigallia che Silvia Felici ha chiuso ieri la sua pizzeria al foro annonnario per andare a Milano ai funerali che si sono tenuti per Silvio Berlusconi, una chiusura per lutto nazionale. La signora ha spiegato così il suo gesto, lo seguo da sempre e sentivo il dovere di andare per rispetto. L'ho sempre stimato come uomo, poi a mio parere è stato un genio per l'imprenditoria. Abbiamo visto quello che ci ha proposto la rassegna stampa del Corriere Adriatico e passiamo a vedere invece cosa ci propone il resto del Carlino. Abbiamo già visto come titolo di testa Alba di sangue a Villanova, due coltellate a rivale e scappa, una gli ha perforato il polmone. Succede a Valcesano, Alba di sangue, sferra due coltellate, arrestato. Drama a Villanova, ventenne albanese, colpisce un coetagno marocchino, aveva appena fatto una sosta al vicino bar. Sono da poco passate le 5 quando nel pomeriggio antistante il Conad City del paese. In pieno centro un giovane di nazionalità albanese sferra due coltellate ad un altro ragazzo marocchino. Le grida della vittima scuotono il silenzio di quei momenti e arrivano fino alle orecchie della barista del locale, posta sull'altro lato della strada. Lei si precipita sulla porta e vede un giovane di colore che urla mentre si tira su all'altezza della pancia la maglietta insanguinata. Invece fugge l'alcoltellatore con la sua macchina. Nei filmati la targa dell'auto in fuga, polmone perforato dalla lama. Torniamo anche con il resto del Carlino a Fano ed ecco che riprendiamo la notizia che abbiamo già visto sul Corriere Adriatico. S'allarga il bastione 200 posti in più e la torre. Nel nuovo progetto spazio per 350 persone invece di 150 la struttura in acciaio farà da via di fuga per l'aumentata capienza. Sempre a Fano, attacco d'arte alla Paolini. Ecco i manifesti. Le foto fatte dentro la caserma diventeranno 16 quadri realizzati dagli studenti dell'Accademia di Urbino da appendere al muro esterno. Sara Cucchiarini muove i primi passi per la valorizzazione dell'immobile. Si parte con l'abbellimento del muro esterno della caserma grazie alla collaborazione di circa 200 studenti dell'Accademia di Belle Arti di Urbino che hanno trasformato in manifesti le foto realizzate all'interno della struttura da 20 loro colleghi. Calciomercato il grande spot e così Fano va sempre in gol. Ridendo e scherzando nell'Etere sono già volate 10 ore di messa in onda delle 20 totali che Sky Sport sta dedicando a Fano dove Calciomercato, l'originale, la fortunata trasmissione calcistica condotta dal trio Alessandro Bononan, Gianluca Di Marzio e Faina, trasmette in diretta ogni sera da lunedì scorso e fino a domani. È una bellissima cartolina per la città, una visibilità straordinaria per le Marche e anche per la città di Fano. Andiamo sempre al Fano Valcesano da Friuli al Pincio per spacciare preso con 40 grammi di cocaina. fa l'operaio in Friuli, abita a Pordenone ed era da una decina di giorni a Fano, probabilmente per ragioni sentimentali, ma aveva capito che il giro di giovani che frequentano il Pincio poteva dargli interessi e guadagni. Per questo martedì pomeriggio questo operaio 23 anni albanese si era fatto vedere al Pincio non solo dai suoi potenziali clienti ma anche dagli agenti del commissoriato che naturalmente lo hanno preso e lo hanno arrestato per spaccio di cocaina. Passiamo alle pagine di Urbino. Se il turista verrà attratto dai peccati di gola in fase di preparazione la comunicazione della città feltresca per il 2024 puntando sul cibo bio, benessere e ovviamente anche cultura. Benessere della persona e il bio come cultura che si è fatta cultura. Saranno anche questi gli ingredienti al centro del nuovo piano di comunicazione della città di Urbino che verrà messo a punto il prima possibile tenuto conto della concomitanza di Pesaro capitale italiana della cultura 2024. Ed ancora una notizia per quanto riguarda Urbino e provincia quel lupo che va in città timori per il vicino asilo sulle tracce dell'animale che scende vicino alle case perché affamato si stanno muovendo le forze dell'ordine recinzioni rinforzate agli edifici. C'è un lupo ad urbagna nella zona che porta alla strada delle capute tanto che si sarebbero anche allertate le maestre di un asilo poco lontano dal luogo dell'avvistamento che preferirebbero non far uscire i bimbi dall'asilo. Mobilitate gli agenti della polizia locale soprattutto dopo il ritrovamento di una pecora azzannata. Sempre sulla prima pagina del resto del Carlino tornando a Fano Carrara vuole conferme materna non c'è i vertici dell'azienda ieri assenti all'incontro la rabbia dei cittadini che chiedono rete, fognaria, marciapiedi e rotatorie e asfaltature. Interquartieri, corsa per il nuovo consiglio non c'è più la maggioranza. In quartiere si corre per riconvocare a brevissimo il nuovo consiglio comunale per rispettare i tempi del 30 giugno e non perdere 20 milioni dei fondi Cipe serve che il consiglio comunale approvi al più presto l'accordo del programma sulla variante al PRG per la strada di Gimarra. Il sindaco Seri conferma lo faremo presto per aggiudicare i lavori entro il 30 giugno prossimo. Torniamo a vedere anche l'evento che c'è stato ieri a Pesaro, lo spettacolo sfreccia la mille miglia le regine senza tempo che sanno ammagliare. Ieri c'è stata questa bellissima manifestazione storica di auto d'epoca che ha attraversato tutta la città di Pesaro. Sono state più di 400 le auto anche di 80 e 90 anni che hanno sfilato ieri in città con pit stop alla palla e in piazza del popolo. La carovana si è poi diretta a Roma, ci è scappato poi anche un piccolo incidente, tamponato una golf, tanto spettacolo ma anche qualche guaio dalla prima mattinata fino a circa le 13. Alcuni automobilisti che si sono imbattuti nella manifestazione hanno rischiato di essere coinvolti con spiacevoli incidenti. Anche l'omicidio di Pesaro viene ritrovato in prima pagina chiaramente del resto del Carlino il vigile del fuoco ucciso, il killer si difende, prima mi ha aggredito poi l'ho colpito 5 volte ed ancora resta in carcere l'albanese accusato di aver pestato Giuseppe Tucci, interrogato dal giudice ha reso una versione discordante con i testimoni. Clyde era fuori di sé una furia ma lui risponde io minacciato di morte. Questa sarà una vicenda di cui parleremo per parecchio tempo per capire esattamente come sono andate le cose come si sono svolti i fatti. E poi ecco ancora, sempre in prima pagina, coltivatore diretto con 2,3 kg di droga patteggia 20 mesi e 8.000 euro. L'uomo 50 anni vive a novilare in un capannone dove aveva attrezzato una vera piantagione di marijuana. E' stato arrestato per aver nascosto in un capannone di sua proprietà 2 kg di marijuana suddivisa in sacchettini e ieri l'uomo ha spiegato al giudice che era per uso personale ed aveva preparato i sacchettini per un consumo ponderato. Una tesi che chiaramente non è stata creduta. E io vi ricordo prima di chiudere la nostra rassegna stampa che oggi c'è il doppio appuntamento con gli scrittori per la rassegna letteraria come un libro all'aperto. Oggi doppio appuntamento a Mondolfo per la rassegna come un libro all'aperto alle 18.15 al Chiostro di Sant'Agostino, protagonista Alessandro della Santa Unione alle 21 ai Giardini della Rocca, Paolo Minone, dialoga con Gianluca Antoni. Abbiamo visto tutta la rassegna di oggi, giovedì 15 giugno. Io naturalmente vi auguro una buona giornata, al tempo credo che si rimetterà presto poi vedremo quali sono state le notizie relative effettivamente ai danni che ci sono stati stanotte per questo ulteriore nubifragio molto violento che ha colpito la città di Fano. Io vi saluto e ci vediamo sempre domani mattina alle 7. Vi auguro una splendida giornata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.